Previsione per sabato 18 febbraio. Correnti atlantiche più miti iniziano ad affluire da ovest sulla Lombardia, ma in un contesto ancora prevalentemente anticiclonico. Cieli in parte nuvolosi in pianura con addensamenti più consistenti sui settori occidentali ma senza fenomeni. Bel tempo al più velato lungo le Alpi. Clima nel complesso mite con massime intorno a 9-10 gradi in pianura, zero termico diurno sopra i 2000 metri, 20 deboli occidentali. Previsione per domenica 19 febbraio. Una saccatura dal nord Europa valica le Alpi in giornata, richiamando dapprima umide correnti sud-occidentali, poi originando un veloce minimo sul Golfo Ligure. Sulla Lombardia cieli molto nuvolosi, specie sulle pianure, ancora asciutto al mattino. Nel pomeriggio qualche pioggia, specie sui settori centro-orientali, deboli nevicate sulle Alpi oltre 800 metri circa. Tra sera e notte fenomeni più diffusi, seppure in prevalenza deboli. Deboli nevicate sulle Alpi, con quota in calo dai 1000-1200 metri fino a 500-700 della notte. Temperature in calo serale in quota ancora relativamente mite di giorno.